Pronto? Ehi, che succede? Mi serve il tuo aiuto, puoi venire? Non posso, sto comprando dei vestiti. D'accordo, allora sbrigati, raggiungimi. Non riesco a trovarli. Che vuol dire che non riesci a trovarli? Non riesco a trovarli, c'è solo zuppa. Che vuol dire che c'è solo zuppa? Significa che c'è solo zuppa. Allora esci dal reparto della zuppa! D'accordo, non c'è bisogno di sgridarmi! C'è ancora più zuppa. Che vuol dire c'è più zuppa? Che c'è più zuppa. Vai al prossimo reparto! C'è ancora zuppa. Ma dove sei adesso? Sono alla zuppa. Che vuol dire che sei alla zuppa? Vuol dire che sono alla zuppa. In che negozio sei? Sono al negozio di zuppa. Perché stai comprando vestiti in un negozio di zuppa? Vaffanculo!